Ciao a tutti ragazze, eccomi tornata con un nuovo video un video che mi è stato richiesto da moltissimi di voi soprattutto su Instagram ovvero la mia postazione make up e ringrazio subito il mio ragazzo che mi ha sopportato a riprendere tutto perché ci ha provato da sola ma faceva venire la nausea il video perché facevo sempre su giù con la videocamera e niente, spero che vi piaccia ovviamente non aspettatevi postazioni super fighe come youtubers famose anche perché lo spazio è quello che è e i prodotti insomma sono quelli che compro io non altri la postazione make up non è nella mia camera ma bensì nella camera dei miei perché c'è un coma molto più grande e praticamente rubavo tutto lo spazio a mamma e invece nella mia il coma è praticamente stracolmo di porta orecchini, porta collane, porta abbracciati per le mie cappe non c'è proprio assolutamente spazio e quindi niente ragazzi, vi lascio il video e spero che vi piaccia ciao! come vedete ho queste due cassettiere e dove all'interno ci sono tutti i trucchi divisi per categorie e iniziamo subito qui dalla prima nel primo cassetto qui ci sono tutte BB cream e fondotinta anche minerali e anche campioncini di fondotinta tipo questo della Pichy qui abbiamo BB cream, bottega verde Carnier, Sobio, Pupa fondotinta minerale di Kiko e Neve fondotinta Essence mentre nel secondo cassettino ho creato uno scomparto io con un cartoncino nella prima parte c'è una spugnettina e i correttori ci sono questi qua che vi l'ho fatta anche vedere nella Makeup Collection mentre nella parte dietro ci sono gli eyeliner che ne ho pochini e i primer quindi eyeliner e primer insieme sposto questi nel terzo cassettino ci sono le terre e gli illuminanti c'è la terra Elf, Essence, Kiko illuminante Essence, Elf e Pupa e qua dietro questo qui della saga quarto cassettino interamente dedicato ai blush blush Kiko, Pupa, Essence, Be Chic Elf, New York Color ultimo arrivo della Catrice Neme Cosmetics poi quinto cassettino ci sono tutti, tutti mascara questi sono Essence poi ci sono questo Kiko che penso sia l'unico rimasto dei Kiko perché mi fanno un po' schifo questo di Lancome due mini sides uno di Chanel e uno di Lancome e ho anche le fibre queste qua sembrano quelle di Essence ma non sono quelle ma le avevo comprate al Cosmoproof da un rivenditore asiatico poi ultimo cassettino della prima cassettiera ci sono tutte le ciprie traslucide e non sono queste qua colorate di Muae Essence Elf e quelle traslucide di Kiko e Neve come vedete manca quella di Essence e ho deciso di buttarla perché mi stava macchiando tutto visto che si era aperta e rotta qua sopra ho la scatolina del Hypnose Ice del Doll Ice il cofanetto immaricato del mio ragazzo con il mascara il correttore e la matita mi dispiaceva buttarlo allora l'ho messo qui passiamo all'altra cassettiera questa scatolina qui sopra della QVC mi è arrivata all'interno delle creme solari che avevo chiesto sul cantonioomaggio.it e l'ho trovata comodissima per mettere tutti i pigmenti la maggior parte come vedete sono Essence scusate sono Neve ho poi questi due Essence e questo qui di Kiko è comoda perché almeno così rimangono tutti quanti sempre dritti e evito di perdere il prodotto appena li apro in questa cassettiera rispostiamo tutto il primo cassetto è pesantissimo perché all'interno ci sono tutte tutte le palette c'è la palette neve c'è la naked ci sono quattro mini palette Essence due sono quelle Sun Club e Night Club che ho preso di un giornale una è All About Nude e All About Paradise poi ci sono una mini palettina che ho preso moltissimo tempo fa da H&M una palettina che ho preso dai cinesi due palette una è la Pretty Pastels e l'altra è la Pop Static e questa che vi ho fatto vedere ultimamente avevo fatto anche un tutorial al Kit Kat che avevo comprato da Douglas e appunto la Naked e sotto in fondo a tutto c'è quella grande da 88 colori se non sbaglio della Elf la tengo sotto a tutto perché è veramente ingombrante infatti anche per questo non la utilizzo moltissimo perché devo tirare fuori tutto ogni volta poi risistemiamo tutto ok qui nel secondo cassetto ci sono balsami labbra luci da labbra e maglie labbra allora ci sono questo qui della Essence che dovrebbe cambiare colore sopra il rossetto ma vabbè l'ultra balme di Lush un balsamo labbra organic un burro cacao un altro burro cacao poi ci sono dei gloss non ne ho molti perché non mi fanno impazzire i gloss e le matite labbra tra cui quelle neve e le glossi come si chiamano ultra glossi di Kiko una di Essence e un'altra di Kiko qua sotto poi nel cassettino accanto invece ci sono tutti tutti i rossetti rossetti normali rossetti a pennarello tinte labbra e quest'altro che sono sempre lip stain tipo tinte i matitoni gli altri matitoni della Elf della Kiko qui le marche sono molto molto varie cioè non dovrebbe essere qui c'è Elf Pupa Moa Essence Cost Catrice Kiko di tutto e di più penso ma singolarmente ve li farò vedere bene mano a mano con le makeup collection qui fate la roba ci sono tutti i ombretti singoli che ho in polvere singoli e al massimo queste mini palettine della Elf e infatti i neotri sono qui davanti poi gli altri sono tutti ombretti singoli la maggior parte sono Kiko Essence che ne sono qualcuno anche di Pupa questo mi fu dato Cosmoproof che all'interno ha questi tre bellissimi colori Marche appunto varie però maggior parte si sono Kiko e Essence cioè gli ombretti chiamo Mai e basta mentre nel cassettino accanto ho messo e così chiamano gli ombretti cremosi e i matitoni tra cui il color tattoo di Maybelline lo solo dei Essence quest'altro della nuova collezione di Essence un duo di Elf e qui sono tutti i matitoni c'è un eyeliner che dovrebbe stare qui e ci sono i long lasting di Essence che conosciete tutti questi che erano di un'edizione limitata e questo che è di Elf questo della Ycoin e Ycon perché Ycoin Kiko e due matitoni dei cinesi ah le cassettere sono finite e ora passiamo qui che ci sono i due barattoli con le matite ecco le matite ne ho un bel pochine e qui ci sono matite di tutte tutte le marche Kiko Essence Avon maggior parte sono i Kiko Essence qualcosa Pupa Elf questa bottega verde ce ne sono appunto tantissime di tutti i colori diversi che se dito un colore c'è in quest'altro invece ho messo solamente i pastello neve perché ogni volta cercarli là e mezzo è diventato scema e allora ho pensato a un posto solo per loro siamo arrivati ai pennelli e ho questi tre barattoli in questo barattolino piccolino ho messo i pennelli più piccoli che sono quelli del set acqua di neve e ci sono dei pennelli Mariannaud che sono appunto piccolini questi che presi da un cinese e questo che ha il flat booty della neve e questi appunto stanno perfetti qui perché se li mettono in questi barattoli più grandi cadono giù e non li trovo scusate se vedete tutti i pennelli sporchi in quest'altro barattolo che era diciamo la confezione originale dei pennelli questi con il manico rosa presi da by coins ci sono tutti i pennelli occhi occhi e labbra labbra ne ho solamente 3-4 il resto sono tutti quanti occhi mentre in quest'altro ci sono tutti i pennelli viso e Kiko elf e Kiko elf e quelli che vi faccio con il manico rosa che sono del set by coins in questa mini vaschettina che è quella che molti cercano e prendono da sephora ma si trova tranquillamente anche in negozietti tipo di cinesi o negozietti che vendono cose domestiche tipo aeroplanet risparmio casa ho messi pennelli quelli doppi perché se li metto qua dentro ogni volta la parte che va sotto si va a sporcare a impolverare e quindi mi da fastidio e ci sono questo qui di H&M questo anche di H&M e questo di Catrice e quindi li ho messi qua in modo tale che non si vanno a sporcare più di tanto poi qui ho questo organizer che anche questo so che cercate sempre in molte e su ebay si trova qualcosa ma io questo l'ho comprato da Risparmio Casa se avete nei dintori Risparmio Casa Europlanet Mauriz questi tipo di negozi qui li troverete senz'altro e qui ho i matitoni per le sopracciglia questo Elf Benecos Essence e questa è una matita di che si chiama Essence che metto sotto l'arcata qui ci sono tutti i pennellini per le sopracciglia e questo cosino che serve per applicare i glitter gli pigmenti che non uso mai qui abbiamo delle pinzette e qui c'è il mio unico rossetto MAC che tengo qua davanti questo mini rossettino Diego Dalla Palma che ho depottato e messo in questo barattolino e anche in quest'altro c'è sempre un rossetto Diego Dalla Palma poi sempre qui c'è un temperino che è di Kiko e un flat buggy un mini flat buggy di Elf dietro c'è uno spruzzino che è una miscela di acqua e cipira traslucida che utilizzo per ad esempio mettere i minerali applicati bagnati questo è quello per pulire i pennelli ma che non uso quasi mai e qua dentro ci sono tutte mini giarrettine che uso se devo mettere dentro qualcosa qua ho lasciato un piccolo spazio a mamma poverina che io rubalo tutto il comò e qui ci sono due ali essenziali uno alla lavanda e uno al tea tree oil e in queste pochettine che vedete qui ci sono tutte spugnette pulite queste della Elf queste altre di Kiko e i prodotti nuovi che devo ancora aprire e tra cui c'è la love stage magari se lo dirò fuori e qui c'è la love stage di Essence che è nuovo ma devo prima finire l'altro invece in quest'altra pochette ci sono tutti campioncini di profumi e di creme anti rughe per pelli mature comunque quelle che usa mia madre non tiro fuori tutto se no diventiamo scemi poi c'è quest'ultima cassettiera dove all'interno abbiamo tutta la parte delle unghie allora iniziamo qui è un po' confusionario nel primo cassetto ci sono le rotelle con le unghie e lì mi mette di wood buffer mini buffer forbicine unghie adesive di Kiko altre ruote con le unghie i stampini per il kit di Essence lo stampi design i separatita qua davvero di tutto e di più e questo è il cleanser quello che utilizzo quando faccio il semi permanente poi secondo cassetto già un attimino più ordinato qua in alto ci sono quello che appunto utilizzo per fare il semi permanente queste due sono le basi Laila che vengono usate come base top coat e questi tre servono per il set di Essence e queste sono tutte creme mani c'è una tesori d'oriente bottega verde una mini size Laila e questa della Essence qui ci sono i due smalti sempre della stampi design e qui ci sono tutti quanti gli smalti che utilizzo di solito come top coat per fare manicure un po' più carine e ci sono appunto questi brillantinati che sono H&M Essence questo qui bottega verde questo è il cinesi questo è sempre H&M H&M e Kiko poi qui c'è la penna correggi smalto di Essence oddio che botto e sotto tutte basi e top coat e sono della Mois Kiko Pupa Essence Kiko Kiko Essence Essence e le coccine asciuga smalto Essence e ora passiamo agli smalti veri e propri Allora qui ci sono tutti gli smalti diciamo che vanno dal blu verde color tiffany violetto blu arancione giallo e bordeaux c'è anche un fucsia che non dovrebbe essere qui in realtà però ormai lo lascio qua e qui anche le marche sono molto varie abbiamo elf e questo che è di cheram yamamai l'aila essence epistai l'avon la maggior parte sono Kiko Kiko Essence sono uno di più c'è qualcosa di Pupa uno di Maybelline questo di chi è? questo è sempre elf e uno di Mua e appunto questi sono i colori che stanno qui nell'ultimo cassetto ci sono i miei preferiti che sono tutte le tonalità del viola del rosa del fucsia anche qui sono molto molto varie c'è la Laila Kiko Pupa Von Deborah Essence ci sono le emissioni limitate c'è questo che mi si dice NEM questo della Flormar e Essie Rimmel e Melissa Basta questo qui della Achiado che è preso sempre il Cosmocroof e questo qui della Astra che è effetto gel mi ha un bel pochini qua sopra non c'è niente di che a parte che è pacchetto di fazzoletti e questo qui che è il Velvet Soft sembra che si chiami il Dr. Sholl e basta ragazzi questa era la postazione make up so che non è niente di che rispetto a quella insomma delle grandi youtubers magari un giorno lo diventerò anch'io e ci vediamo al prossimo video ciao ciao